vorrei commentare alcune notizie della settimana che mi sono sembrate particolarmente interessanti e curiose vi dico così i titoli giusto per avere un assaggio ingoiare una telecamera invece di farsi la colonoscopia questo mi sembra il più interessante di tutti poi abbiamo un obiettivo della nikon con il controllo delle aberrazioni di fuoco qualsiasi cosa voglia dire e poi abbiamo la nuova o m wow camera che dovrebbe uscire chi dice a metà chi dice a fine febbraio e poi abbiamo una notizia riguardante un problema molto attuale che è stato sollevato anche a sanremo questo è serio che è quello degli haters cioè il proprietario di canon rumors che si chiama craig non so come ha deciso di lasciare che non rumors spinto appunto dalla pressione degli haters c'è anche da dire che è un problema molto circoscritto a questa fascia professionale o non professionale che si espone sui social la persona comune che i social invece li fluisce basta ma non crea dei contenuti per lavoro questo problema lo sente meno perché non capita che i tuoi amici ti prendono di mira iniziano a prenderti in giro o a dirti parolacce per quello che scrivi sui social nonostante siano spesso e volentieri delle grandissime boiate ma lo fanno con persone che non conoscono lo fanno con l'influencer lo fanno con il produttore di contenuti siccome appunto non è un loro amico non lo conoscono e internet ti dà questa illusione di distanza se la prendono con lui e iniziano a volte proprio a tormentarlo nel vero senso della parola addirittura questo gestore di questo sito di rumors di canon rumors è stato spinto pensate a vendere non si sa chi non so chi lo prenderà in mano ma ha abbandonato totalmente questo tipo di lavoro perché gli haters erano arrivati addirittura a prendersela con la sua famiglia ecco prima di passare ad approfondire queste notizie volevo dire a questi haters che sono fortunati che questo craig non sia siciliano perché qualsiasi mestiere faccia o un siciliano che sia un influencer un fotografo il gestore di un blog quando gli toccate la famiglia diventa semplicemente un siciliano quindi state anche attenti ora approfondiamo un pochino queste notizie la prima notizia è quella che rivoluzionerà il mondo della fotografia sicuramente è riportata addirittura sul famosissimo dp review o digital photography review appunto a quella riguardante l'ingoio di videocamere al posto della colonoscopia questa mi sembra una vera rivoluzione cioè invece di farti la colonoscopia che tutti abbiamo il terrore giustamente della colonoscopia e finalmente invece sembra essere uscita una videocamera molto piccola a forma di pillola che si può ingoiare e sostituire quantomeno per alcune applicazioni la colonoscopia questa videocamera particolare è stata testata viene tuttora testata in scozia per diagnosticare il cancro speriamo che arrivi presto anche in italia così possiamo tutti andare dal proctologo senza timore alcuno al massimo dovremo appunto ingoiare una pillola non mi sembra una grande cosa la seconda notizia che ha attirato la mia attenzione in questa settimana viene da nikon rumors lo sapete che sono affezionato a nikon e al formato micro 4 terzi nella fattispecie si tratta di una patente per un obiettivo 85 f12 che ha la particolarità di avere lo sfocato aggiustabile io adesso so che nikon ha già fatto del delle lenti simili abbiamo per esempio un 105 f2 e un 135 sempre f2 che hanno questo defocus control in cui si può controllare l'intensità e anche la qualità del del fuoco dello sfocato in particolare non delle aree messe a fuoco mantenendo appunto la nitidezza sulle aree messe a fuoco io non so di preciso che cosa faccia questo defocus control ma è una cosa molto interessante perché sempre di più mi trovo a guardare le aree sfocate come sono rese nella fotografia il che non vuol dire che io sia un appassionato di bokeh estremo anzi tendo a minimizzare di solito il bokeh o lo sfocato delle mie fotografie ma quando è presente quando abbiamo una profondità di campo relativamente ridotta mi piace che questo sfocato abbia una certa qualità e non sia fastidioso da guardare avere un controllo nell'obiettivo che ti permette di aggiustare a tuo piacimento il tipo di sfocato o anche la quantità non lo so se controlla anche la quantità ma credo di capire che controlli anche l'intensità appunto di questa sfocatura può essere qualcosa di molto utile a livello creativo anche canon ha fatto una serie di obiettivi che si chiamano rf di left lens con il defocus smoothing che hanno una caratteristica simile di controllo appunto dello sfocato la notizia è che questo della nikon per cui abbiamo per adesso soltanto una patente quindi non si sa se e quando uscirà ma intanto è un progetto valido per le nuove mirrorless che fino ad oggi non c'era c'era soltanto per le vecchie reflex sia di canon che di nikon e poi visto che sono affezionato pure al micro 4 terzi mi interessa quando escono novità riguardanti questa famosissima om wow camera chissà se si chiamerà veramente wow la om wow 1 la om wow 5 non lo so sarebbe un nome che gli esperti di marketing potrebbero prendere in considerazione io francamente se si chiamasse realmente wow non la comprerei soltanto per una questione di nome ma chissà vedremo intanto sarà una camera che loro dicono ti farà dire wow si dice le ultime notizie dicono che uscirà qualcuno dice a metà febbraio sarà annunciata qualcuno dice sarà annunciata il 24 febbraio e poi sarà commercializzata a marzo non si sa se metà o fine marzo queste sono le date che per il momento abbiamo come punti di riferimento non sappiamo se sono realistico no perché si tratta sempre di siti di rumors quindi curtigli come si direbbe in sicilia la vera questione qui è se avrà o meno un sensore staggad perché non ci sono notizie sulla natura di questo sensore sarà staggad o non staggad voglio ricordare che l'essere staggad ha un peso soltanto per quanto riguarda la velocità di lettura del sensore ma non influisce sulla qualità dell'immagine i sensori staggad sono mediamente più veloci di quelli non staggad però c'è da dire anche una cosa che il sensore micro 4 terzi proprio perché abbastanza piccolo è sempre stato veloce rispetto a quelli full frame e quindi la necessità di essere staggad è ridotta rispetto a un sensore full frame probabilmente preferirei avere un sensore di qualità migliore piuttosto che un sensore staggad perché la velocità di lettura è già molto buona nei sensori micro 4 terzi a prescindere che siano staggad o no credo che il sensore staggad sia assolutamente necessario indispensabile soltanto quando si va a rinunciare completamente all'otturatore nel caso del micro 4 terzi potrebbe avvenire effettivamente una cosa del genere potrebbe avvenire una rinuncia all'otturatore perché il micro 4 terzi è sempre stato molto attento alla stabilizzazione dell'immagine e anche a tutte quelle funzioni di computational photography di intelligenza artificiale che si trovano già in moltissime macchine micro 4 terzi soprattutto nell'Olympus e che costituiscono uno dei punti di forza appunto del sistema non lo so che strada prenderanno se prenderanno la strada della computational photography ea ai come lo vogliamo chiamare allora probabilmente rinunceranno all'otturatore e andranno per un sensore staggad se invece vogliono incrementare la qualità perché sentono un pochino mancarsi il terreno sotto i piedi rispetto alla competizione del full frame che va avanti dal punto di vista della qualità mentre il micro 4 terzi è rimasto fermo a circa quattro anni fa non ci sono stati grandi progressi beh allora sarebbe il caso di concentrarsi su altri aspetti che non siano la velocità di lettura ma che siano risoluzione gamma dinamica pulizia profondità cromatica e tutti questi aspetti e poi vi lascio con una non notizia più che altro una riflessione io non ho tantissimo tempo per frequentare social e forum ma quando mi capita di farlo vedo tantissime lamentele che riguardano l'autofocus e gli uccelli la mia riflessione è più che altro un'idea che potrebbe essere sviluppata dai brand produttori di macchine fotografiche che è quella appunto di venire incontro a questa fascia di mercato di fotografi che si appassionano improvvisamente agli uccelli e siccome sappiamo tutti che gli obiettivi teleobiettivi buoni quelli veramente lunghi con un ottimo autofocus con un'ottima qualità costano tantissimi soldi e le macchine fotografiche con l'autofocus all'altezza costano pure tantissimi soldi allora io propongo questo perché non iniziate a vendere direttamente uccelli ammaestrati cioè ognuno ogni fotografo dovrebbe ricevere insieme alla macchina in kit un obiettivo è un uccello ammaestrato così lo può tenere in balcone nel giardino e fotografarlo senza andare a spendere 6.000 7.000 euro capisco che questo sotto certi punti di vista farebbe guadagnare meno i brand produttori perché ovviamente venderebbero meno obiettivi però dobbiamo anche pensare a tutta quella fascia di fotografi che un obiettivo del genere non se lo può ancora permettere o rischierebbe il divorzio se lo comprasse e che invece vogliono produrre ugualmente delle bellissime fotografie di uccelli in volo un uccello ammaestrato che va dove dici tu si mette a volare dove dici tu nel punto dove dici tu risolverebbe un sacco di problemi da questo punto di vista fatemi sapere che cosa ne pensate se pensate che sia un'idea grandiosa come io sono veramente entusiasta di questa idea che mi è venuta o se invece pensate che sia una gran c***o ciao